La serie di laboratori per la redazione del nuovo piano regolatore di Pordenone coinvolge anche il Consiglio Comunale dei Ragazzi. Questa mattina, infatti, a Palazzo Badini, un'ottantina di alunni tra componenti effettivi e di loro vice si sono incontrati per elaborare proposte per il futuro della città. Ad accoglierli l'assessore all'urbanistica Martina Toffolo ed il sindaco di Pordenone Claudio Pedrotti. Entriamo nel vivo del Consiglio Comunale dei Ragazzi che quest'anno continua il filone del rispetto. Vi ricordo che questo era stato il tema che abbiamo dato ai ragazzi delle scuole medie e elementari della nostra città e da cui poi ci aspettiamo le loro idee. Il rispetto ha vari modi per essere svolto e uno degli aspetti che si sembrava giusto affrontare con loro era quello del piano regolatore perché alla fine il piano regolatore rappresenta una serie di regole e di atti di indirizzo che danno il rispetto reciproco su come poi utilizzare questo spazio tridimensionale che è la nostra città o come sarà la nostra città nel futuro. Ora, visto che questi ragazzi saranno le persone che si troveranno tra le mani il piano regolatore quando saranno grandi, adulti, ci è sembrato giusto coinvolgerli adesso per far capire da un lato quali sono i modi per costruire un piano regolatore ma dall'altro renderli partecipi. Insomma, sono quei temi che fanno sì che questi ragazzi si avvicinino alle istituzioni in modo sostanziale e che ci danno la possibilità di coinvolgerli fin da adesso per costruire quella città migliore che noi desideriamo. Grazie a tutti.